Davanti alle situazioni che ci schiacciano, Dio non ci tiene a distanza, non si vergogna di noi, non ci giudica. Papa Francesco ieri durante l'Angelus in piazza San Pietro. Affidiamoci totalmente a Gesù, sappiamo pregare e invocarlo affinché intervenga e viva accanto a noi. È l'invito di padre Giuseppe Cuomo dall'altare del santuario Santissimo Salvatore di Andrea. Omelie Storytelling è il libro di Don Oronzo Marraffa per riflettere su come la relazione sia una risorsa per creare un rapporto con chi partecipa a una celebrazione eucaristica. Anche l'ospedale è casa sollievo della sofferenza tra le strutture ospedaliere più attrattive d'Italia per cure complesse, a stabilirlo il Ministero della Salute. Seconda bandiera lilla consecutiva per il porto turistico di Biceglie, unico in Italia a potersi fregiare del riconoscimento che certifica l'accessibilità e l'inclusività. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Davanti alle situazioni che ci schiacciano e anche davanti al peccato, Dio non ci tiene a distanza, non si vergogna di noi, non ci giudica. Al contrario, Egli sempre ci rialza dalla morte. Sono le parole di Papa Francesco ieri durante l'Angelus in piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve stralcio. Davanti alle sofferenze del corpo e dello spirito, alle ferite dell'anima, alle situazioni che si schiacciano e anche davanti al peccato, Dio non ci tiene a distanza, Dio non ci svergogna di noi, Dio non ci giudica. Al contrario, Egli si avvicina per farsi toccare e per toccarci e sempre ci rialza dalla morte, sempre prende per mano per dirci, figlio, figlia, alzati, cammina, vai avanti. Signore, sono peccatore, vai avanti. Io mi sono fatto peccato per te, per salvarti. Ma tu, Signore, non sei peccatore, no. Ma io ho subito tutte le conseguenze del peccato per salvarti. E' bello questo, eh? Fissiamo nel cuore questa immagine che Gesù ci consegna. Dio è uno che ti prende per mano e ti rialza, uno che si lascia toccare dal tuo dolore e ti tocca per guarirti e ridurrarti la vita. Egli non discrimina nessuno perché ama tutti. Affidiamoci totalmente a Gesù, sappiamo pregare e invocarlo, affinché intervenga e viva accanto a noi. È l'invito di Padre Giuseppe Cuomo dall'altare del Santuario Santissimo Salvatore di Andria. Ascoltiamo. Riceverlo, portarlo con noi. E la meraviglia delle meraviglie è che noi abbiamo questa possibilità di cibarci di questo Gesù. Fratelli, io vorrei solamente confermare la vostra fiducia in Gesù. Affidiamoci totalmente anche a Lui. Non affidiamoci solamente alle nostre forze. Sappiamo pregare. Sappiamo invocarlo, questo Gesù. Che intervenga e viva a fianco a noi. Che non si discosti. Che ci faccia innanzitutto accettare quello che ci viene. E sappiamo poi chiedere, stendere anche la mano. Poi ci sarà Gesù che farà il resto. Anche Lui tenderà la sua verso di noi. E dirà anche a ciascuno di noi. panciullo, panciullo, alzati, cammini, vivi. Te la do io la vita. Perché Lui è la via, la verità è la vita. Si intitola Omelie e Storytelling, il libro di Don Ronzo Marraffa, presentato a Castellaneta, che riflette su come la narrazione diventi una risorsa per creare un rapporto con chi partecipa a una celebrazione eucaristica. Un libro per riflettere su come la Chiesa aiuta la divulgazione e la spiegazione della parola di Dio. Pagine nate quasi per caso da cui emerge che la sposa di Cristo deve diventare sempre più attenta alle necessità della società contemporanea e avviare un'operazione di aggiornamento del linguaggio per riuscire a farsi comprendere. Si intitola Omelie e Storytelling, il libro scritto da Don Ronzo Marraffa, edito da San Paolo Edizioni. Un volume presentato a Castellaneta, in provincia di Taranto, che è stato spunto di dibattito tra l'autore, Monsignor Dario Viganò e Monsignor Sabino Iannuzzi, vescovo di Castellaneta. Com'è nata l'idea di questo libro? È nata da una richiesta di un incontro per un gruppo di sacerdoti che dovevano vivere un momento di confronto proprio sul linguaggio nell'Omelie. Mi fu chiesto di dialogare con loro su Omelia e Storytelling. È nata proprio da questa necessità. Per poi renderci conto, dopo quell'incontro, che poteva essere una proposta utile per tanti. Ascoltare diventa il verbo più importante per costruire un'Omelie che sia capace di restare nel cuore e per farlo è necessario avere un preciso punto di partenza. Partire dal concreto, dall'esperienza della vita delle persone, di quegli interlocutori a cui si rivolge e soprattutto cercando di svelare quel mistero attraverso la dinamica di una narrazione che può permettere anche di comprendere davvero che l'invisibile si fa visibile. Un'Omelia si costruisce non solo in base alle conoscenze maturate con lo studio e la preghiera ma anche ragionando su come raggiungere chi ascolta. La narrazione visiva ha contratto sempre più la capacità di attenzione. Noi dobbiamo tenerne conto, quindi certamente un'Omelia che sia ridotta nel tempo perché non è la parte preponderante della celebrazione. È una delle parti importanti ma non la parte che deve assumere il sopravvento nella celebrazione. E poi appunto un'attenzione a tutti quegli aspetti fatici, come si dice, cioè di apertura del canale che vanno dallo sguardo, dall'uso della voce, dalla postura, dal movimento che sono tutti aspetti che a volte si possono apprendere, a volte certo uno deve fare i conti anche con il proprio carattere e la propria sensibilità. Rinnovarsi vuol dire sfruttare lo storytelling inteso come risorsa per creare una relazione forte con l'interlocutore. Lo storytelling permette di creare relazioni attorno a dei significati. Ecco perché suggerisce anche un'idea di comunicazione che non è una semplice trasmissione di messaggio. Anzi, nel libro metto proprio in evidenza come il primo gesto comunicativo autentico è l'ascolto del mio interlocutore. Se voglio davvero creare una comunicazione autentica, devo cominciare a muovere i passi da lui. Le novità dei linguaggi influiscono sulle omelie che cambiano nel tempo e acquisiscono un nuovo significato. Forse agli inizi ero più attento a leggere sussidi o altro. Oggi cerco di essere più preciso nel rimanere sul testo della parola. Il consiglio che dà ai giovani sacerdoti qual è? È quello di preparare le omelie, di non affidarsi troppo a tecniche particolari e di parlare soprattutto attraverso l'esperienza anche della propria vita per quanto giovane possa essere. Anche l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza tra le strutture ospedaliere è più attrattive d'Italia per cure complesse. A stabilirlo il Ministero della Salute. I dettagli nel servizio. Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è tra i 20 ospedali più attrattivi d'Italia per cure complesse. Lo afferma il Ministero della Salute che ha individuato queste strutture tenuto conto della complessità dei casi trattati e della mobilità extra-regionale dei pazienti. L'Istituto del Foggiano è risultato essere l'unico in Puglia e l'unico al sud in quest'ultimo caso assieme ad un'azienda sanitaria del Napoletano. Gli altri 18 istituti sono tutti al centro-nord. Nel 2022 hanno spiegato da Casa Sollievo della Sofferenza sul totale dei pazienti ricoverati il 14% proveniva da fuori regione e principalmente da Campania, Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo. L'ospedale di Padre Pio è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuto nelle aree di afferenza di neurologia, oncologia e diagnostica ed è un ente del sistema sanitario nazionale. Il nostro obiettivo, hanno aggiunto, resta quello di essere una casa col massimo livello di tecnologia e di scienza possibile e con l'umanità e l'amore che ci ha insegnato il nostro santo fondatore San Pio da Pietrelcina. A Barletta riapre al traffico via Vittorio Veneto. Si presenta con due corsie allargate rispetto al passato, con marciapiedi più ampi e adeguatamente illuminata. Questa mattina sul posto il primo cittadino Cosimo Cannito ha illustrato i dettagli dell'intervento, aggiungendo che a partire da oggi è consentito anche il passaggio pedonale attraverso il sottopasso della stazione Ferrovie dello Stato Ferrotranviaria Bari Nord. Di fatto è stato ripristinato il collegamento pedonale tra via Marconi e piazza Conte Duca. Quella porticina abusiva ha sottolineato il sindaco, tanto utilizzata dai pedoni per recarsi dal quartiere Borgovilla-Patalini al centro e viceversa, finalmente non c'è più. Seconda bandiera lilla consecutiva per il porto turistico di Bisceglie, unico in Italia, a potersi fregiare del prestigioso riconoscimento che certifica l'accessibilità e l'inclusività. Ci impegniamo quotidianamente a rendere Bisceglie una città sempre più accogliente e inclusiva. Sono le parole dell'ingegner Nicola Rutigliano, amministratore unico di Bisceglie a Prodi, che nei giorni scorsi, insieme all'assessore all'inclusione sociale Roberta Rigante e ai rappresentanti di diverse associazioni locali che si occupano di disabilità nel porto turistico, ha accolto il presidente della associazione no profit bandiera lilla, Roberto Bazzano. È la seconda consecutiva per il porto turistico di Bisceglie, unico in Italia a potersi fregiare del prestigioso riconoscimento che certifica l'accessibilità e l'inclusività, l'attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla promozione di un ambiente inclusivo per tutti. Grazie all'impegno quotidiano di Bisceglie a Prodi, infatti, il porto della città di Dolmen si distingue per i numerosi servizi messi a disposizione delle persone con disabilità. Questo autorevole riconoscimento attesta il valore della struttura e delle associazioni che operano all'interno della nostra marina, ha commentato Rutigliano. Abbiamo avviato questo percorso con l'amministrazione comunale e insieme a diverse realtà associative con l'obiettivo di rendere il nostro porto un luogo accessibile. Siamo stati pionieri di un'iniziativa che ora anche altre città del litorale e di tutta Italia stanno seguendo, prendendo esempio da noi. Auspichiamo, conclude l'amministratore unico di Bisceglie a Prodi, di creare una rete con gli altri comuni della provincia, al fine di arricchire ulteriormente l'offerta turistica della nostra regione. Ospiti nazionali e internazionali sono pronti a raggiungere la città della disfida per animare il cartellone estivo Barletta Mon Amour. Grande attesa per la doppia data dell'evento gratuito RDS Summer Festival, al previsto per il 5 e il 6 luglio. Pronti ad accogliere tanti turisti in città, ha spiegato l'assessore alla cultura Oronzo Cilli. Ascoltiamo. Prime note per Barletta Mon Amour si entra nel vivo della programmazione di eventi previsti per questa estate 2024. I primi accenni in danza ci sono già stati nell'anfiteatro dei Giardini del Castello. Ora tutti in attesa del grande evento musicale RDS Summer Festival. Sul palco del Fossato, all'ombra del Castello, il 5 luglio saliranno tra i tanti artisti italiani Elodie e Fedez. C'è il ritorno di Francesco Gabbani il 6 luglio, insieme a Tananai. Entrambe le date barlettane del format gratuito vedranno la conduzione della speaker radiofonica Anna Pettinelli. Tra i concerti a pagamento invece ci saranno Alex Britti il 13 luglio, Gigi D'Alessio il 17 e 19 luglio e tanti altri artisti. Un calendario che vede il ritorno pensato per tutta la famiglia del grande villaggio Warner Bros. Che animerà i Giardini del Castello il 20 e 21 luglio. C'è attesa anche per il grande spettacolo gratuito di Orietta Berti in Piazza Aldomoro il 14 luglio in occasione della festa patronale. Spazio anche per le performance di danza e gli appuntamenti in musica organizzati dalle associazioni del territorio. Siamo pronti ad aprire le porte della città per accogliere i tanti turisti. In arrivo aveva spiegato durante la conferenza stampa di presentazione del programma l'assessore alla cultura ai grandi eventi, Oronzo Cilli. I dati sono confortanti, nello scorso anno abbiamo aumentato la presenza nel nostro territorio da 1 a 2 notti. Le risposte sui B&B e sulle strutture ricettive sono molto alte per l'afflusso grazie anche a questi eventi che stiamo organizzando. Ecco Barletta vuole piano piano crescere e diventare un punto di riferimento nella regione se è possibile. Nella sede del circolo nautico Ippocampo un incontro sui temi legati al mare, la più grande risorsa di bellezza e ricchezza della città di Molfetta. Il mare è la più grande risorsa di bellezza e ricchezza della città di Molfetta, ma anche motivo per uscire da una condizione di marginalità e volano di una transizione verso il futuro. Suggestioni e riflessioni di sette ospiti illustri si sono susseguiti a Molfetta nella sede del circolo nautico Ippocampo, stimolando la discussione pubblica sulle prospettive legate a questa grande risorsa. Rinascere dal mare è il titolo dell'iniziativa promossa da Movimento Rinascere. È un Talk X, l'abbiamo chiamato così, perché prende ispirazione dai famosi TEDx. Sono una modalità per aprire un dibattito con l'opinione pubblica aiutati da esperti di una precisa materia. Nel nostro caso parliamo di mare. Molfetta ha delle bellezze straordinarie e probabilmente la principale è proprio il mare. Noi siamo legati al mare con la nostra storia, la nostra economia, però in qualche modo lo abbiamo dimenticato. E allora forse va costruita una nuova narrazione sul mare che unisca i pezzi. Nel corso della serata non sono mancati momenti dedicati all'arte che hanno giocato con le emozioni e i ricordi del pubblico. Lo scorso 22 giugno l'orchestra della città di Andrea è ritornata ad esibirsi. A dirigela il maestro Vito Andrea Morra. Sentiamo. Che cos'è per lei la musica? La musica è stata sempre la mia passione. Fin da piccolo sono riuscito, faticosamente, convincendo anche i genitori, cosa non sempre facile, a farne la mia professione. Lui è Vito Andrea Morra, direttore dell'orchestra della città di Andrea, ensemble ritmico-sinfonico, alla sua seconda vita. Varese, classe 66, Morra è titolare della cattedra di composizione jazz al Conservatorio di Musica Piccini di Bari. Da sempre affascinato dalla scrittura e dall'arrangiamento per orchestra, è vincitore di concorsi internazionali di composizione e arrangiamento per big band. Tra le altre collaborazioni come arrangiatore e direttore, quella con l'orchestra sinfonica della città metropolitana di Bari e già negli anni 90 con l'orchestra ritmo-sinfonica città di Andrea. Fu un'esperienza fantastica che io, francamente, non mi aspettavo perché mi arrivò questa telefonata dal nulla. Era un'orchestra che io conoscevo solo per sentito dire. Mi chiedessero di entrare a far parte di questo gruppo e di scrivere per quest'orchestra e io cominciai a lavorare. Fu un'esperienza straordinaria. Tra l'altro facevamo anche un disco, incidemmo anche un disco all'epoca. Oggi, su impulso dell'Associazione di Promozione Sociale Progetto Orchestra, che ne sta curando la rinascita, è tornato a dirigerla. Perché Vito Andrea Morra? Perché dopo parecchi anni, dopo oltre vent'anni, quando lo abbiamo richiamato, lui non ci ha posto delle questioni, non ha fissato dei paletti, ma ha semplicemente gridato sì, con un grande sorriso largo. E' stato anche questo una cosa inaspettata, perché ormai dopo tanti anni non pensavamo più di riprendere, ma invece è stato molto bello. E siamo ripartiti con un organico rinforzato, con dei giovani molto bravi. E infatti con solo le tre prove abbiamo messo su un concerto che a dire di quelli che l'hanno ascoltato, insomma, è andato molto bene. Quindi speriamo di andare avanti con sempre più energia, anche grazie a questi giovani che abbiamo inserito. Era l'ultima notizia per questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.